Allora Diego, la mia prima domanda è, come è andata appunto sabato 5 novembre in piazza San Giovanni a Roma? È andata bene, nel senso che non è che personalmente mi aspettassi che chissà cosa succedesse, c'era tanta gente, ora non so numeri ma di poco mi interessano, di solito il raffronto è fra piazza piena, piazza semipiena e piazza vuota, ieri mi sembrava abbastanza piena, quindi questo considerando che era una manifestazione di partito e che non è proprio semplicissimo che un partito riempia una piazza, mi sembra comunque positivo e al di là di quale sia il partito, a chi lo fa va riconosciuto il merito. L'atmosfera era molto buona perché anche se tante volte si è detto siamo arrivati, il capolinea, la spallata, casca, non casca, tutte queste cose, ieri erano i parlamentari che stavano dietro al palco che prevedevano l'imminente caduta di Berlusconi, laddove per imminente si faceva per lo più la data di dopodomani. Ho letto un po' di interventi in giro e molti erano non convinti, almeno dalle parole di Bersani. Io ho letto poco, ho capito che c'è tutta una discussione su questa frase della comunicazione, poi casmai ne parliamo, però non è che mi aspettassi ieri Bersani chissà cosa dicesse, è diverso da quello che dice tutti i giorni intervistato in TV, se uno andava ieri al comizio di Bersani pensando che dicesse boh, non lo so, facciamo vendola a ministro dell'interno, non lo so, non parli di te, ma è chiaro lui ha ribadito più o meno quello che ultimamente ha detto spesso. Tra l'altro lui, ora leggendo pure tra le righe, ma si sa, è quello che più di tutti, forse nel PD, lui è la Bindi, ma forse lui principalmente sarebbe orientato ad andare subito al voto, per motivi che a me sembrano pure abbastanza logici e per certi versi condivisibili, che sono due, ce n'è uno logico e condivisibile, l'altro è proprio il suo personale, quello suo personale è che andando al voto adesso il candidato sarebbe inevitabilmente lui, mentre invece se al voto ci va nel 2013 non è così, insomma anzi scade proprio il suo mandato come segretario ancora prima, quindi devi rimettere tutto in discussione, eccetera. Quello che invece un pochino convince anche me è che adesso comunque tutti i sondaggi dicono che il PD, cosa che ha detto lui più volte chiede al palco, è il primo partito, insomma comunque dei voti ce li ha, poi non sono mai abbastanza, potrebbero essere molti di più data la situazione, comunque dei voti ce li ha. Se tu fai un governo di transizione con tutti dentro e quindi con la tua presenza molto anacquata, compromessa, tacciata di inciucismo tutti i giorni, un governo che poi appunto come dicono tutti sarà lacrime e sangue, per cui non sarà un governo che rimarrà la storia per essere un governo popolare, nell'immaginario collettivo c'è il rischio che poi vai nel 2013 al voto con molti meno voti rispetto ad adesso, quindi però tutti dicono che bisogna fare questo governo di transizione e se lo dicono tutti ci sarà un perché, addirittura pure vendolo, mi sembra che ultimamente si sia più convinto, non dico insomma sia prenderne in considerazione anche questa tipotesi dopo un'intenzione di andare al voto subito, dichiarata più volte, non lo so potrei sbagliarmi, però mi pare di aver letto qualcosa del genere anche da parte sua. Quindi il giudizio, l'analisi del discorso di Bersani di ieri, fargli le pulci sul discorso di ieri, personalmente mi rendo conto che sia giusto fargli sempre le pulci, per carità, anzi lo dico io che sul fare le pulci ai discorsi dei segretari del PD ci ho campato, mi sono interessato spesso ovviamente a quello che dicono, non è il comizio di ieri quello da cui mi aspettavo chissà che, nel senso che era un comizio che doveva un po' servire al fomento di una parte di popolo e all'autostima collettiva dato dal ritrovarsi in piazza, dal contarsi così. Quanto Bersani sia leader che fomenta, questo lo sappiamo, più di tanto non va, non è un agitatore di folle, ma non è neanche detto che sia quello che serve. Non per fare il gioco dei nomi, però ti volevo chiedere, secondo te una volta che sarà scaduto il mandato di Bersani, chi vedresti come più viabile per diventare segretario del PD? Boh, che ne so, in teoria sarebbe tra un anno e mezzo e tutto è ribaltabile, non lo so, non mi vengono in mente grandi nomi, ti potrei dire i nomi che dicono tutti, ma non per chi sarebbe meglio per me, perché veramente non riesco ad avere particolari infatuazioni per questo o quel leader, se ce l'avessi te lo direi. Chi ha qualche chance così… però in realtà hanno… per esempio uno che è un emergente a tutti gli effetti è Nicola Zingaretti, ma lui è destinato a fare il sindaco di Roma, e gli altri sono quelli che si dicono, sicuramente non lo so, c'è Chiamparino che è uno che si deve sempre candidare e poi non si candida mai, sta sempre lì che minaccia, dice potrei candidarmi, lui magari si candiderà pure, però personalmente non è che mi sembra sempre eterno indeciso, che quando deve fare non fa e quando deve rompere rompe, mi sembra che tendenzialmente sbaglia i tempi, ma è una caratteristica abbastanza comune a tutti, è lo stesso Bersani pure, comunque si è candidato anche in ritardo rispetto ai tempi previsti forse, e poi c'è Renzi che sta in mezzo lì a fare casino e che comunque fa casino un po' per meriti suoi, un po' perché gli si permette molto di fare casino, gli si lasciano autostrade davanti da percorrere, da parte del PD, da parte del Bersani stesso, tutte le punzecchiature reciproche, quelle che ci sono state nei giorni della Leopolda erano evitabili, se fossi stato Bersani sarei andato a Firenze un'oretta, mi sarei fatto vedere e Renzi era disinnescato. Secondo te è stato un errore il fatto che non sia andato? Ma sì, non solo, siamo fatti un errore dove non sia andato, un errore rispondergli, un errore attaccarlo, pure ieri gli ha dedicato una parte, insomma, ripeto, se non vuoi creare il fenomeno mediatico Renzi cerchi di stargli addosso in positivo, nel senso, bastava che il Bersani andasse alla Leopolda, gli battevano tutte le mani a partire da Renzi e il clamore sarebbe stato molto diverso, invece ieri sono bastate quattro persone che gli hanno detto vattene ad Arcore e oggi Renzi aveva una pagina del giornale solo per lui. Sì, tra l'altro è stato tacciato, no Renzi, di essere in realtà un berlusconiano di sinistra travestito da esponente del PD. Sì, vabbè, queste sono letture da fatto quotidiano, sono semplificazioni che non so quanto senso abbiano, oggettivamente Renzi sì, può avere qualche, c'è questa cosa di gore, insomma si può trovare qualche fatto che sia andata ad Arcore, ma se vogliamo di che Renzi è come Berlusconi diciamolo, però la reputo personalmente una cosa inesatta, proprio tecnicamente inesatta, insomma, diciamo che i percorsi dei due personaggi sono molto diversi, che lui rappresenta una certa caratteristica di leader, come si dice, pronto a tutto, che cavalca molto bene la comunicazione, spregiudicato, così può anche essere vero, anzi forse per certi razzi è sicuramente vero, a lui penso che faccia anche piacere essere definito così, a me personalmente non piace, non sarà certo non credo che sarà mai il mio leader, però ripeto, gli si lasciano delle praterie che si potrebbero limitare. Invece non c'è stato così tanto clamore per il nostro tempo di Bologna con Civati e la Serracchiani? Sì, questo è vero, perché Civati e la Serracchiani dal punto di vista della comunicazione sono meno paraculi di Renzi, probabilmente hanno forse anche più contenuti condivisibili dal mio punto di vista rispetto a quelli di Renzi, ma nel momento in cui hanno dovuto comunicare la loro iniziativa hanno fatto meno notizia. Io quest'anno non sono volutamente andato a nessuna delle iniziative del PD che si sono svolte in quei 10 giorni di delirio. Perché sì, perché mi sembrava abbastanza avvilente e paradossale che ogni leader a torto ragione si organizzasse un'iniziativa proprio, ogni corrente così, tutte abbastanza accomunabili dalla cifra generazionale, perché ci stavano i 30-40 anni all'Aquila, poi c'erano Civati e la Serracchiani a Bologna, poi Renzi a Firenze, potevano farne una e magari ci sarebbe andato. Dove discutevano, dove fra di loro discutevano, invece farne tre, dove in tutte e tre erano tutti d'accordo, soprattutto sul cercare di, non dico di parlare male, ma di mettere in ombra l'altra iniziativa, mi sembrava veramente cretino proprio, stupido dal punto di vista della comunicazione e anche delle motivazioni. Io l'anno scorso, in tutto ciò poi si è inserita la cosa, poi vai a sapere chi mette prima le date, non lo saprò, non lo so, non lo sarò mai, però sempre dal punto di vista di quello che arriva al militante che legge queste cose, la cosa del PD finalmente sud a Napoli, non è contemporanea, crea scuola di partito per 2000 giovani, che in prospettiva 70-80, mi fa pensare al prossimo anno a 2000 iniziative, se ogni giovane c'è poi da squadre partito e la prima cosa che capisce è che deve organizzare l'iniziativa sua, capisci che è un problema. Eppure poi Civati c'è andato alla Leopolda. Ha fatto bene, secondo me ha fatto bene ad andarci, diciamo che la frase non saremo i D'Alema e Veltroni del futuro, mi sembra comunque un po' presuntuosa, perché alla fine D'Alema e Veltroni tra i tanti danni qualcosa comunque hanno fatto, Renzi Civati ancora no, però per certi versi io lo auguro di essere D'Alema e Veltroni del futuro, magari, per certi versi magari, però stiamo ancora lontano, io sono andato l'anno scorso alla Leopolda invece, l'anno scorso c'era andato un anno fa, per curiosità, perché Renzi non lo conosco, ieri ci siamo così punzecchiati tra cazzeggio e altro nel retropalco, ma non lo conosco, Civati l'ho conosciuto, ci sono andato perché mi interessava, devo dire che la divisione Renzi Civati era visibile e tangibile già l'anno scorso, dopo neanche 24 ore di Leopolda già si capiva chi stava mangiando chi, quindi non mi ha stupito l'esito.